Tutto è pronto per l'undicesima edizione della Sagra del Carciofo a Trinitapoli. Questa mattina la conferenza stampa di presentazione dell'evento che si svolgerà sabato 26 e domenica 27 novembre nella città Ufantina. Un evento organizzato dall'Associazione Volontari Soccorritori Casa Altrinità con il patrocino del Comune del Galdown Ufantino. Caratteristica principale della manifestazione, la passione e la promozione del prodotto principe del territorio trinitapolese. La passione è l'elemento fondamentale perché se non ci fosse la passione non ci sarebbero i volontari, non ci sarebbe la partecipazione della gente, non ci sarebbe la partecipazione dei fornitori che hanno visto in tanti anni il sacrificio dei volontari, la voglia di fare, la voglia di far crescere questa manifestazione e di far arrivare tanta gente qui a Trinitapoli. Un programma intenso ricco di contenuti gastronomici saranno come al solito numerosi listens su Viale Vittorio Veneto dove si terrà l'inaugurazione sabato 26 alle 18 con le autorità civili, militari e religiose. Tra le novità principali di quest'anno di spettacoli con Carmen Russo come madrina d'eccezione per il concorso gastronomico amatoriale CarcioChef. Abbiamo Carmen Russo come madrina di eccezione per CarcioChef, poi ci sono dei grandi spettacoli e il resto continuiamo sempre ad allargarci. Arriveranno 180 camperisti da tutta la Puglia e non solo dalla Puglia e abbiamo riservato a loro anche il trattamento particolare perché è un valore aggiunto alla nostra sagra. Poi la madrina d'eccezione quest'anno, Carmen Russo, la showgirl famosa in tutta Italia, farà la testimonial di un concorso gastronomico che ci siamo inventati così dal nulla, CarcioChef. Sulla stregua di quelli che sono i format televisivi di MasterChef eccetera, noi lo facciamo con un concorso amatoriale, quindi concorso gastronomico amatoriale CarcioChef alla sua terza edizione. La soddisfazione del sindaco di Trinitapoli Francesco Di Feo accompagnato in conferenza stampa dall'assessore all'agricoltura Andrea Minervino per la conferma della manifestazione è diventata ormai un must per la città ufantina. Devo fare il plauso all'associazione volontari soccorritori, alla presidentessa Antonietta De Rosa, a Damiano Marzucco che devo dire che ormai anno dopo anno con dedizione, passione, impegno e ora lo possiamo dire senza ombra di dubbio, anche con estrema professionalità mettono su un evento che va al di là della portata dei confini di Trinitapoli, veramente ormai è diventato un evento su base regionale e questo mi conforta molto perché dà lustro alla nostra città ed è anche una sorta di premio al duro sacrificio che viene fatto da tante persone nell'ambito dell'agricoltura, penso a tutti i colori, a tutti i detti lavori, dal contadino passando per l'imprenditore, per l'esercente, che veramente in queste due giorni diventano per loro una sorta di vetrina dove effettivamente possono un po' fare il bilancio e possono anche mostrare le grandi capacità di un prodotto che veramente è tutto tipico, di un prodotto che è tutto nostro, di un prodotto che noi ormai esportiamo anche fuori dalla nostra Italia e che veramente diventa il volano, il punto centrale della nostra economia.